Gildo Fattori, visto che quando sono arrivato l'addetto stampa era lui, insomma i primi consigli me li ha dati lui, dopodiché mi è toccato proseguire da solo, ne abbiamo viste tante, sicuramente è una cosa che farà sempre parte della mia vita il calcio Padova. Nel giorno in cui saluta il calcio Padova, dopo 18 anni da responsabile della comunicazione Massimo Candotti, storico addetto stampa bianco scudato, ricorda il suo mentore Gildo Fattori, l'uomo che gli ha insegnato il mestiere. Nel mezzo un rapporto sempre gentile e amichevole con giornalisti, tifosi e calciatori, tanti campionati dalla serie A sfiorata con mister Dalcanto al baratro della serie D. Da quella finale a Novara con Alessandro Dalcanto in panchina e il Sharawi in campo, fino alla vittoria del campionato nei dilettanti, quindi agli antipodi come tipo di calcio, però anche come esperienza è stata molto formativa. Molti gli aneddoti di questi anni, ricordo però l'ultima grande festa prima dello scoppio della pandemia. Quando abbiamo fatto il compleanno del calcio Padova del 2020, quindi abbastanza recente, e assieme ai tifosi abbiamo organizzato quella incredibile torciata che ha incendiato il prato della valle, secondo me creando uno spettacolo che rimarrà nella storia della città, oltre che della tifoseria. Ora è il tempo di cambiare, ma di certo non cambierà la squadra. Il cuore resta bianco scudato e tifferà quando sarà pronta la nuova curva dell'Euganeo. Quello è già un primo rimpianto, quando ci sarà la curva nuova io non sarò del calcio Padova, però magari sarò in curva, quindi mi godrò lo spettacolo da una prospettiva privilegiata.